Finisce così, vinciamo 2-0 contro il Nottingham Forest, ragazzi parliamo della classifica, perché in questo momento siamo terzi con 3 punti sopra al Newcastle a parità di partite giocate e siamo a 6 punti dal Tottenham, quindi 6 punti di distacco dal Tottenham che è quinto che ha una partita in più di noi. Quindi la situazione classifica sta dalla parte nostra, perché questa partita dovevamo vincerla e l'abbiamo vinta. Ragazzi parliamoci in maniera molto chiara, non era facile vincere questo incontro, perché andavi a affrontare una squadra che non vinceva da tanto tempo e che vuole assolutamente rimanere in Premier League, quindi oggi in casa voleva fare la grande partita e tu avevi tantissime assenze, noi avevamo veramente tantissime assenze. Infatti oggi lo United è sceso in campo con, vabbè, De Gea a tre pali, a destra Wambisaka, a sinistra Dalot, McGuire e Lindelof e difensori centrali. Poi lì davanti abbiamo i titolari, oggi hanno giocato i titolari Eriksen, Casemiro, Bruno, Anthony, Sancho e Martial. Ma a livello generale questa squadra, tra infortuni eccetera eccetera, arrivavi, perlomeno per me arrivavi in questa partita con tanta paura. Io sono arrivato a questa partita con veramente tanta paura e tanta ansia, perché ho pensato cacchio il Tottenham ha perso, cacchio il Newcastle l'ha perso. Vuoi vedere che non sfruttiamo l'occasione e che quindi rimaniamo sempre quarti? No, oggi lo United dimostra la sua maturità, dimostra la sua crescita a livello mentale, sfrutta l'occasione, sfrutta la situazione che si è creata ieri tra il Newcastle e il Tottenham e quindi allunga. E voglio precisare questa cosa che è fondamentale. In Premier League tra poco, non mi ricordo se la prossima o la prossima ancora, si affronteranno Tottenham e Newcastle. E quello sarà uno scontro che può veramente aiutare noi per la corsa alla Champions League. Ma in questo momento la classifica ci dice che non stiamo sbagliando nulla, perché il nostro obiettivo era questo. Parliamo a livello generale della partita. Siamo scesi in campo, ripeto, con parecchi panchinari, con parecchi sostituti, ma siamo scesi in campo bene. Oggi lo United ha giocato bene dal primo all'ultimo minuto, ha dominato in lungo e in largo. E non sto qui a ripetere sempre le stesse cose. Lo United ha sbagliato tanti gol. Ormai lo sappiamo, questo è lo United in questa stagione. Sbagliamo tanti gol e creiamo tanto. Finalizziamo veramente un quarto di quello che creiamo. Ma a livello generale questa squadra è scesa in campo con la grinta giusta, con la voglia giusta. E il gol di Dalò ci fa capire quanto questa squadra voleva rispondere a tutte quelle persone che ormai dicevano lo United ha finito. Con tutti questi infortuni lo United non potrà fare più nulla. Oggi Dalò fuori posizione fa una partita atomica. Atomica dal primo all'ultimo minuto e segna un gol bellissimo, ma il miglior in campo per me. L'NVP di questa partita è proprio Anthony. Che per l'ennesima volta decide un altro match. Per l'ennesima volta il giocatore cruciale di questa squadra riesce a creare una superiorità numerica con una facita disarmante. Disarmante. Tenang non sbaglia nulla perché, ragazzi, che formazione poteva mettere? Cioè sono questi i giocatori che lo United poteva mettere in campo. Quindi Tenang, mettete caso che questa partita la andavamo a perdere. Non si poteva dare le colpe a Tenang per le scelte. Perché i giocatori erano quelli. Quindi se voi andate a guardare la panchina è veramente oscena. Oscena. Lo United doveva scendere in campo così, ma Tenang prepara bene il match. Tenang scende in campo con un'idea e la porta fino alla fine. Finalmente ho visto uno United che nei 90 minuti attacca, crea, attacca, crea. Non è che si addormenta o negli ultimi minuti tende a non giocare più. No, ha attaccato in continuazione. Veramente. Navas, portiere clamoroso, non capisco come sia finito a Nottingham. Un portiere che può ancora dire la sua in grandi squadre. E a livello generale, ragazzi, ci siamo portati a casa. Una vittoria fondamentale. Adesso bisogna portare, tenere la testa e andare a Sevilla. Partita assolutamente non facile. Anche lì tante assenze. La prima tra tutti, Bruno Fernandes, che mancherà perché è diffidato. Oggi Casemiro non l'ho visto al 100%. Eriksen sta piano piano, ritornando quell'Eriksen che abbiamo visto inizio stagione. Quindi rimaniamo concentrati perché se continuiamo così possiamo veramente andare con estrema facilità in Champions League. Perché vedendo che il Newcastle dovrà affrontare il Tottenham e che tu hai uno scontro diretto col Tottenham, tu puoi praticamente ipotecare la qualificazione di Champions nelle prossime due giornate. quella dove il Newcastle si affronterà con il Tottenham e quella dove tu andrai ad affrontare il Tottenham. Perché poi questa settimana noi in Premier League non giochiamo perché domenica c'è il Brighton in fake-up. Ovviamente c'è una cosa che mi preoccupa. Non è tutto positivo quello che abbiamo visto oggi. C'è più di una preoccupazione soprattutto a livello di palle alte. Così intendo che oggi abbiamo visto una squadra che quando l'avversario, quando il Nottingham andava a crossare creava dei pericoli incredibili perché né McGuire né Lindelof riescono ad intercettare un pallone di testa. Uno. A differenza invece varanno il Lisandro che porco tu ogni volta che crossavi o varanno il Lisandro la palla la prendeva. Invece oggi veramente tanta difficoltà con le palle alte e questo è un problema. Per fortuna andiamo a affrontare il Sevilla che gioca a palla bassa, cerca di fraseggere eccetera eccetera. Però io spero con tutto il cuore ragazzi che rientri l'UXO perché lì abbiamo bisogno di un centrale che sape impostare. Lindelof oggi ci ha provato a fare ruolo di Lisandro ma ha preso veramente tanti rischi. E ha rischiato di fare qualche cavolata. Però a livello generale vi ripeto questa è una squadra che deve continuare così. Deve arrivare fino a fine stagione non giocando bene ma portando a casa il risultato. Perché adesso questo è lo United. Devi portare a casa il risultato perché dei problemi ne abbiamo tanti, di essenze ne abbiamo tante. Quindi Tenang deve provare a portare a casa il risultato anche giocando di merda. L'obiettivo è lo United è vincere adesso. Vinci 1-0, vinci 6-0, va bene lo stesso. L'importante è che vinci. Vinci che fanno un tiro a porta 2 e loro ne fanno 40. L'importante è che vinci. Non facciamo i tifosi scemi che su Twitter, su Instagram, su TikTok, cavolo United deve fare più perché quello è, perché le assenze sono troppe ragazzi. Non ci possiamo permettere di fare gli sboroni. Oggi lo United ha giocato bene, oggi lo United è da 9 per tutte le assenze che ci aveva, per quello che ha proposto in campo, per quello che ha fatto. Lindelof e Maguire una coppia, sappiamo che disastri ha fatto l'anno scorso questi due insieme. Oggi hanno giocato bene. Se era Maguire e Lindelof dell'anno scorso, finiva 3-0 per loro. Lo sappiamo, lo sapete quello che hanno fatto loro, però cerchiamo un po' di fidarci di questi due, perché meritano una seconda opportunità. Come la stiamo dando a Sancio, come la stiamo dando a tantissimi altri giocatori, anche loro meritano una seconda opportunità, soprattutto Maguire. Oggi prestazione... Nessuna sbavatura, a parte le Valle Alde che vi ripeto, quelli vanno in panico. Detto ciò, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, io ho detto tutto, godiamo ragazzi, godiamo adesso, godiamo.